Prima di tutto Laura diamo ragione del titolo Il cortile rifà un po' la storia dei nostri luoghi, dei paesi nostri dove tante famiglie si affacciavano sullo stesso spiazzo dove i bambini giocavano, le donne chiacchieravano, forse anche ogni tanto litigavano, però era un punto d'incontro, una condivisione di uno spazio che poi anche nel romanzo diventa una condivisione di vita. Cortile allora come comunità, un ideale forse oggi purtroppo smarrito? Sì, anche se devo dirti per esempio nel condominio dove abito io c'è questo clima da cortile, sempre con delle persone che restano un po' defilate ma si rispettano perché non è obbligatorio, però anche noi ogni tanto facciamo festa tutti insieme. Credo che sia una realtà che tutto sommato c'è ancora, non così frequente indubbiamente nelle grandi città. Credo di poter dire che il romanzo ripercorre la tua esperienza di vita e di lavoro. Sì, sicuramente, cosa metti dentro? Quello che hai vissuto, le persone che hai incontrato, magari modificandole, riconoscendole dopo. A me è capitato di dire ma guarda sono venute fuori da una fantasia e in realtà poi dico ma questo qua però assomiglia un po'. Quella volta quella signora là che mi ha detto così, quell'uomo che in particolare nasce proprio da un'esperienza di consulenza. Io sono consulente coniugale familiare e in consultorio vedo tante coppie e molti anni fa mi è capitato di incontrare questa coppia che mi era rimasta nel cuore. Tutte rimangono nel cuore, per tutte poi alla fine preghi il Signore che ti aiuti ad aiutare. Aiutare. Quando la crisi investe una famiglia credente come è nel tuo romanzo, in una parte del tuo romanzo, è più facile o difficile? Elena è una convertita, è una neoconvertita. Lei viene da un paese dell'Est dove la Chiesa praticamente era silente. La sua conversione la porta a essere piuttosto intransigente, piuttosto radicale nella sua maniera di vivere la fede. Prega, si sfoga con Dio, però quando nello sfogarsi ricorda i motivi del suo dissidio col marito, c'è un momento in cui lei si ferma, non vuole più andare avanti, si blocca. La fede è una grande mano, ma ci vuole anche un aiuto di un altro tipo. E dunque il suggerimento di Marianna, anziana, che le dice di provare in consultorio con una persona che ci sa fare su queste cose, sarà quello poi che veramente sarà il suo aiuto. C'è anche un aspetto negativo della fede vissuta da questa donna, di cui purtroppo sono succubi i bambini. Sì, sì, infatti sarà proprio il parroco che con dolcezza, lui sa tutta la sua storia, ma con dolcezza le farà capire che non occorre tenerli su più di mezz'ora a recitare Ave Marie, che i bambini hanno una loro spontaneità e allora qui salta fuori appunto che quando lui andrà una sera a casa di questi coniugi, si proporrà loro di pregare insieme quei bambini e i bambini vengono fuori con delle preghiere spontanee che sono meravigliose, no? E che sono la vera preghiera, è probabilmente una fede più vissuta. Ritorniamo alle crisi matrimoniali. Quando e come la coppia incomincia a pensare a dividersi? Si dice coppia, ma non è facile essere coppia, né per i credenti né per i non credenti. Si pensa che fare coppia, basti essere attratti l'uno per l'altra, avere un progetto, non so, di far famiglia o di far su una casa, ma non basta. Essere coppia è una rivoluzione, oggi come oggi. Una volta le cose andavano diversamente, è una volta, non ci pensiamo. Ma adesso la difficoltà è proprio quella di uscire dal proprio individualismo per dare forza anche al parere, alle valutazioni, ai sentimenti, alle emozioni dell'altra persona. E questo reciprocamente. Fare coppia dunque è uno stravolgimento in qualche modo, non è una cosa facile. Richiede fatica, impegno. Beh, come l'amore d'altra parte. E il consultorio quando e come interviene? Nel consultorio interviene proprio in due casi. In questo caso, di questa coppia, diciamo, credente, che si lascerà condurre dalla consulente al punto che, quando credono che le cose siano a posto, la consulente, li stoppa e dice loro, mi sembra però che ci sia qualcosa che avete accennato la prima volta che siete venuti e che poi subito è stata messa da parte, così come Elena faceva anche quando pregava, no? Ecco, e loro si lasciano condurre. Hanno avuto fiducia in questa persona che li ha accompagnati per un tragitto della loro esperienza e là salta fuori cosa c'era veramente tra di loro. L'altra coppia è una coppia molto particolare dove fede non c'è, almeno da parte di lei, sembra. Da parte di lui forse c'è qualcosa, infatti, che sboccerà, grazie anche a Don Alberto. Ma questi due non si lasciano condurre. Sarà proprio la donna che a un certo punto, essendo stata convinta ad andare in consultorio, ma lei ha la sua mira, lei vuole arrivare a un certo risultato e pensando che il consulente sia dalla parte del marito, piantala tutto e in quella maniera la cosa rimane irrisolta ed è una delle cose che mi chiedono più spesso, ma come va a finire quella Lisa lì? Cosa fa dopo? Come va con questo figlio che, insomma, non vi spiego tutto, se no non lo leggete più. Chi è il lettore ideale del tuo romanzo? Per me sono le coppie giovani, proprio come prevenzione direi, no? È rivolto un po' a tutti, perché quello che c'è scritto nel retro qua del libro dice noi che siamo sulla terra dobbiamo accontentarci di padri e madri imperfetti. Dunque questi siamo noi, figli, che comunque siamo figli di qualcuno e dobbiamo accontentarci di questi genitori che sono imperfetti. Quando scopriamo che non lo sono, rischiamo di buttare via tutto, no? E poi continua, perché anche noi siamo figli imperfetti. Oggi siamo in una società in cui bisogna che invece tu sia perfetto e vincitore sempre, e non è così. Noi siamo deboli, noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo da riconoscere le nostre mancanze per perdonare le mancanze degli altri e per farci perdonare, se è possibile. Uno dei grandi temi che c'è qua dentro è proprio il perdono. Uno dei grandi temi che c'è la nostra domanda. Uno dei grandi temi che c'è la nostra domanda. Grazie.